Un gruas volkent a Tizimba Rirde. Bacchèvano facendo un'esprungo per la scuola, in cui la scuola di Hobiett Lugio sondraggendo la gente, in cui hanno fatto la scuola contro il Napoli. con Napoleone. In questo modo, i suoi studenti e i suoi studenti di 7,9. In questo periodo di Hobbiett Lugio di 1889 i suoi studenti di Simeca Münder in Napolgiu avevano avuto a combattare in francese. Più di 2.000 persone di Simeca Münder, Kinder e Pai Barò avevano i suoi studenti. Dopo 5 anni avevano pensato di la commemorazione caduta per la libertà in una manifestazione di Simeca Münder per aiutare la regione Veneto. Quando si diceva a morgesi, in una città, è anche un po' di me in un po' di Simeca Münder. In questo modo, i rivocatori storici delle Pasque veronesi che riusciti per in alte riuscire dei soldati e della fondamentale che hanno fatto la manifestazione per la musica, hanno fatto le mani in un momento in cui la storia e la cultura in un'attività in cui hanno fatto i soldati per la terra in cui hanno fatto i soldati in cui hanno fatto i soldati tutti i nostri club sono riusciti da Altefone e da Serenissima. Un Dena di Ullevuna Halbes in Parco della Rimembranza in Stacchengeleka Kronz so che denca alle di tuotten. Hörbar in Roberto Ciambetti vorzizzer vorregionarrat von Veneto Assolutamente ricordare quello che accadde nel 1709 la volontà degli abitanti degli Attipiani per difendere la propria libertà quello che hanno patito per appunto cercare di preservare una storia millenaria di tradizioni di cultura e di libertà democratica è una cosa che i libri di storia si dimenticano ma invece è bene ricordare con la federazione dei cimbri far capire che queste pagine di storia devono essere riscoperte devono essere trasmesse devono diventare di nuovo patrimonio comune delle nostre terre degli Attipiani bellissima anche la messa in cimbro che bisogna in tutte le maniere salvaguardare è un patrimonio culturale è un giacimento culturale che fa parte della nostra storia alla prossima per la nostra storia dobbiamo parlare di storia a seggio di Lavrov sono costruita la fondazione che si è venuta in 1999 la fondazione che è venuta in Innsbruck ha avuto la fondazione che si è venuta ha detto che in un'attività è un'attività di più di un'attività. In Europa, dove c'è un'attività molto forte, dove c'è la cultura e dove si è riuscita, ma è in un'attività in un'attività di più di più. A parte di c'è la gente e di politica, dove c'è la sua. Stiamo in Slaverro, a parlare di una nuova bottega che ha trovato Giulia del Castellet. Heizzo tage sono ancora un po' di persone, che i numeri giorni, che hanno portato a parlare delle città di Perno, che hanno portato in le grandi stadi. Dice, sei spendere lavoro, sei un po' di stadi, hanno molti numeri di persone, e la vita in una stade è destra, che la vita in un paio. Da che i numeri giorni in i primi giorni, si pari, che i numeri non è un po' di stadi. In Luzernaren, per il terzo, di Giulia del Castellet, ha spiegato a parlare di una bottega di lavoro, a Giunghi. I numeri, i numeri, dove i numeri giorni che i numeri giorni, hanno portato in un suo corpo, in un suo mondo. In questo caso, in cui, si è iniziato a parlare di un po' di giorni, dove il tuo neppi ha spiegato la città di una città. Di Giulia ha scritto, che si tratta di un'altra parte di Lugio, sulle bottega di Natura in Vagetto, dove si tratta di marmelada, e si tratta di un po' di acqua. In questi giorni, si tratta di un po' di scegliere, dove si tratta di Alpecimbra, da Alessandro Marchesi, dove si tratta di turisti, e una parte di Vrona e di Luzerni. In questo caso, il lavoro di Pitar Giulia, da Castellè. Abbiamo aperto questo laboratorio artigianale, a Lavarone, in frazione Giunghi, dove una volta c'era la ferramenta, e nella parte posteriore c'è il laboratorio, e facciamo noi tutto confetture, sottoli, e preparati per dolci. Con il vario macchinario lavoriamo la frutta a mano, e poi la tagliamo, la inseriamo nel cuocitore. La frutta viene cotta, poi invasettiamo a mano, e mettiamo all'interno di un cestello i vasetti, e poi la confettura viene pastorizzata, sterilizzata, e lo stesso procedimento verrà poi fatto con i sottoli, e anche i preparati li realizziamo noi a mano. Inoltre abbiamo anche i sali aromatizzati. Poi nella parte davanti c'è il punto vendita, in cui potete venire a trovarci e trovate i nostri prodotti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il nostro territorio ha il Kultúrinstituto di Luzerno 0464 789645 Un'altra parte del Kultúrinstituto di Luzerno è stato un progetto che si chiama il Luzerno come si chiama il Luzerno In ogni parte sanno, se non si chiama il Luzerno e ci sono stati in casa, ma si chiama il Luzerno e si chiama il Luzerno ha fatto in cui si chiama il Luzerno Per quanto riguarda il suo lavoro, il suo lavoro che si scrive in Cultura Institut, si stavano fino a dimittrazione, quando avviene a Sboha, nel settimo agosto. Un risultato per questo, che di un po' 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 di un po'. Un po' di un po' di una superficie dove è uscito, i Tuohana, in un po' di un po' di un po' di un po'. Il Pohana è il nostro lavoro, è il nostro lavoro. Il Pohana stessa in un po' di 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 un po'. Inizialmente, il più grande punto per l'Oavar è venuto dal prezzo di vikingo cimbre. Il prologo di Orslont vuole usare, per aiutare un po' di cimbre e un po' di volontà, ma inizialmente si tratta di un po' di l'Oavar in un po' di Piazza e non in Paine. Tutti inizialmente. Porta nell'Oavar isare, per aiutare un po' di scopo. Per aiutare. Voi disfrutare dei brevbi, come potetele un po' di cimbre e che cosa vieni. Da, Dio. Inizialmente, il prologo di Orslont vuole usare, per aiutare invece un po' di cimbre, Segnata so a un calendario che a sulleve un sennit monato agosto di 21 tages, ergerita da un alpiferone da Luzern, sbattacchiamo un po' di miscia anche a un vritto di una costa. Tutti sono ingeladati. Di bordo di un bambino, per il Regno, per la festa dei cimbi, che si è giocato, e a tritto nido a Schio. Per il gioco in gru, se non c'è nessuno da Luzern, che si è giocato. Da Renato Nicolucci Anzalon, da risgeggio buon giar, Simon Sertzek. Un vo' di zabor, i sals, angruas, vo' Matteo Moncastellè.